Avete voglia di provare una sequenza a terra un po' diversa dalle solite? Questo è il video che fa il caso vostro, ma per un livello avanzato. Quindi, se non avete ancora il gancio del brass, non avete ancora mai fatto questo tipo di movimento, mi raccomando, non lo provate da soli, perché altrimenti il rischio è quello di farsi male. Se siete pronti, vi siete riscaldati e siete carichi, possiamo cominciare! Ok ragazzi, se la sequenza vi è piaciuta, non è lunghissima, è un insieme di movimenti e passaggi fatti tutti più o meno a terra, possiamo cominciare! Mi raccomando, come ho già detto, se non avete mai provato alcuni movimenti che ho fatto, fate attenzione, soprattutto perché già dal primo slancio è un po' pericolosino. Quindi mi raccomando, se non l'avete mai fatto da soli, fatevi fare assistenza da qualcuno che sa come farvi l'assistenza. Quindi cominciamo! Si presuppone che abbiate già questo tipo di slancio per andare su nel gancio del brass, solo che non andremo ad agganciare la gamba del braccio interno, ma andremo ad agganciare la gamba del braccio esterno. Nel gancio esterno, quindi quello che dovremmo fare è, da questa posizione, dare uno slancio. Da qua, slancio e questa è la prima posizione che io devo avere. Se non ho questa, difficilmente riuscirò ad andare nell'altra. O comunque avrò paura, perché da qui dovrò sbilanciare, cercare il palo con la gamba opposta e pinzare. A questo punto il braccio si sposta sopra, faccio scivolare il petto in fuori e passo nel forarme del braccio sotto, per poi controllare la discesa e venire di qua. Ve lo rifaccio. Quindi fondamentale, non è così fondamentale avere la verticale, ma io devo avere il concetto di quello che sto facendo, perché il pericolo è quello di cadere di schiena, quindi mi raccomando, se c'è qualcuno mi fa assistenza, perché il rischio è venire giù di testa e di schiena, pericolosissimo. Quindi, sono qua, slancio, spingo bene col braccio sotto, mi tengo bene con il braccio sopra, sbilancio fino a sentire il gancio del braccio sotto, gancio esterno. Lo sguardo si sposta a soffitto, prendo il palo, sposto, vado in forarme, da qui mantengo e scendo. A questo punto, solo qui, parte la gamba interna. Ho fatto come se fosse una sorta di fan kick, ok? Però ho partito in un forarme e partito da questa posizione. Sono qua, quello che devo fare è attivare, sono qui, tac, uno. A questo punto, sposto, mi sposto un pochino, il braccio quello che era sotto, lo sfilo. Vado ad abbracciare il palo con il braccio interno, mentre questo viene a prendere dietro al palo. Ora, questo deve essere fatto in dinamica. La posizione richiama un po' quella del table, questa qua, ma noi lo faremo in dinamica, perché non dovremmo fare il tavolo. Quindi siamo qui, sfilo, passo. Quindi ho dato uno sbilanciamento. Non mi ci devo fermare più di tanto e attenzione alla spalla sotto, perché da qua, se crollo nella spalla sotto, vedete che rischio di farmi male. Quindi il braccio sopra dovrà trazionare e tenermi vicina, qua. Traziono, il palo è più o meno all'altezza del bicipite, perché comunque un po' di apertura verso il basso ci sarà, e farò la mia rotazione. Quindi eravamo qua. Esco, do rotazione aiutandomi anche con l'anca. Abbraccio il palo, cerco dietro, tac. Da qui, quello che dovremmo fare è spingere quella gamba che è arrivata a terra, trazionare con il braccio sopra e agganciare, per poi sfilare il braccio. Lo rifacciamo. Andiamo qua. Sfilo. Dinamica. Tac. Pinzo. Sfilo. Gomito a terra, chiudendo la gamba. Quindi ho bene il gancio sopra, la gamba sotto che chiude verso di me, gomito in appoggio, non devo essere troppo basso, perché altrimenti non ho la spinta del braccio sotto. A questo punto spingo con l'altra mano, che mi aiuta a fare un round con la gamba e ad entrare nel mio gancio. Brass. E qui scendo. E vengo giù, arcando di schiena. Ok, una volta che siamo arrivati nel nostro gancio brass, e dovremo risalire. Come faccio a dare quella rotazione? Dovrò aiutarmi con le braccia e dovrò aiutarmi con la gamba, quella tesa, che spinge verso il palo. Ora, mettere il piedino flex le prime volte mi era naturale. È venuto anche a me, perché avendo il calzino è un pochino scivolo. Quindi è normale, non vi preoccupate. Però cercate di spingere con le mani, un pochino, spingere con la gamba verso il palo. Ok? Quindi, proviamo a vederlo. Lo rivediamo da qua. Siamo arrivati qua. Tac. Da qui. Gomito, mano. E passo qua. Aggancio. E sono qui. Da qui chiudo la gamba, dietro un pochino il sedere. Le braccia faranno questo. E su. Chiudo le gambe e scendo. Vedete che do una leggera rotazione anche con le gambe. Quando vengo su, c'è un leggero spostamento di bacino. Quello contribuisce a darmi la rotazione. Oltre che dovrete usare anche le mani per farlo. Spero che questo piccolo pezzettino di Flowwork ti sia piaciuto. Fammi sapere come è andata. Se l'hai provato, se ci sei riuscito, se è venuto o non è venuto. taggami pure nei tuoi video su Instagram o su Facebook. Ci vediamo nel prossimo video. Iscriviti sul mio canale e lasciami un like.